Anche gli allacci abusivi ai contatori dell'Enel delle case Ater sono finiti nel mirino delle forze dell'ordine che dopo l'aggressione al giornalista di Rai 2 e Pier Vincenzi presidiano ormai quotidianamente il quartiere Rancitelli di Pescara e in particolare il ferro di cavallo in Via Tavo, teatro dello schiaffo e dell'inseguimento alla troupe di Popolo Sovrano che hanno fatto il Giro d'Italia. Ferro di cavallo che come spesso denunciato e rappresentato anche dalla stampa locale in questi anni si conferma scenario di degrado sociale e abbandono di una delle periferie più problematiche del capoluogo adriatico. Anche nella giornata di ieri ci sono stati controlli che hanno portato a due arresti, uno per evasione e l'altro per detenzione di sostanza stupefacente. Nell'abitazione di un 49enne di Montesilvano infatti i carabinieri hanno trovato 50 grammi di hashish, 2 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi, oltre a 500 euro in contanti sospetto provento dello spaccio. Sempre nell'operazione di ieri sono state identificate 70 persone e controllati 50 mezzi con decine di perquisizioni.